Buonanotte Buonanotte Ciao 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 Grazie di essere qui 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 con me oggi oggi diamo il benvenuto a questi Sennheiser Sennheiser M4K ho pramato questi microfoni pramavo questi microfoni da tantissimo tantissimo tempo perché questi microfoni prendono l'audio da qui invece ad esempio i Rode devo metterli così non so come spiegare quelli che usavo più spesso fino ad ora e adesso comunque non smetterò di usarli ovviamente erano questi i Rode che si attaccano sempre qui però i Rode hanno il microfonino così quindi quindi non ci puoi parlare così perché non viene preso da qui quindi li devi mettere così e non sono comodissimi inoltre hanno un modo di catturare il suono insomma un po' particolare nel senso proprio direzionale invece questi prendono un pochino di più il suono e quindi io posso fare così così e parlare anche di mezzo insomma è il tutto è molto più comodo e anche la qualità è semplicemente diversa ora purtroppo fa molto ridere ma le miei cuffie fanno schifo e finchè non lo sento sul computer non posso capire veramente la qualità spero sia buona spero mi piace e dovresti anche appunto sentire molto la differenza tra questo sinistra questo è semplicemente un videotest per appunto testare questi nuovi bimbi per me i microfoni sono i miei bimbi è come dire per un fotografo le sue macchine fotografiche per me i microfoni sono tutti diversi e tutti hanno un motivo per cui essere amati ci sono i miei preferiti per un altro che mai e e e e e e ed era da un po' che volevo fare un upgrade al canale vorrei migliorare ancora di più la qualità e come sapete sto costruendo già costruendo abbiamo messo dei dei muri isolanti nello studio su e non sono ancora arrivati i cavolo di mobili sono arrabbiatissima perché li abbiamo ordinati a marzo dovevano arrivare a giugno e li hanno ancora consegnati si e quindi probabilmente ce li vedrò praticamente a settembre perché poi l'ora ad agosto chiudono ma speriamo comunque io vanno via cioè fra sei giorni e quindi comunque non li vedrò se li consegnano a luglio li vedrò ad agosto praticamente vabbè e questo lo dico sono un video chiacchiereccio lo dico già però fatevi sentire nei commenti come al solito ditemi che cosa ne pensate di questi microfoni o di ciò che dico delle chiacchiere degli argomenti di cui parlo e mettete mi piace sempre perché aiuta tantissimo il mio lavoro so che poi non me ne rendete conto ma un semplice mi piace ci mettete un secondo ma fa la differenza quindi ricordatevi sempre di mettere mi piace in generale ai video che vi piacciono e quindi ne approfitto approfitto di questo video anche per fare per darvi un po' di aggiornamenti e quindi lo studio cioè le cose le cose le cose devono sono arrivare fondamentalmente e penso che ci andrò ufficialmente a settembre anche se sono fuoco anche se la porta isolante è arrivata a ottobre perché è fatta su misura vabbè dovrebbe dovrebbe essere isolato lo stesso comunque sicuro più di questo studio studio stanza scappuzzino e dobbiamo anche provare i mouth sounds con questo ditemi se vorreste un video di mouth sounds con questi microfoni quindi lo studio semplicemente però era per dirvi che sto lavorando e voglio migliorare la qualità del canale mi sono scocciata di questo sfondo e del fatto che sono stretta e insomma spero tanto si noterà lo il distacco fra adesso e lo studio nuovo anche per quanto riguarda spero il rumore di sottofondo che viene male qui ci sono sempre e chiusa la parentesi studio cosa dire allora i video che vedrete nelle prossime settimane intanto non ci sarà una base estiva di questo canale sapete che non faccio pause di questo canale al massimo salta un video se mi trovo stretta o forse proprio nelle due settimane eh centrali di agosto quindi le due settimane di vacanza fisse ecco forse uscirà un video settimana e non due vi avviserò però a parte quello non ci sarà una pausa estiva non non si usciranno sempre i video non so se più brevi sicuramente più semplici non non ha senso far uscire i video particolarmente elaborati d'estate perchè vengono comunque viste di meno e soprattutto per meno tempo quindi sarebbe un po' uno spreco non so se lo vedo così però in generale usciranno non vi preoccupate non vi abbandono ma per sapere di più che video usciranno e un po' di dietro le quinte io saranno chiuso la mia estate sui viaggi che avrò quest'estate eccetera eccetera seguitemi su instagram perchè tanti di voi non lo fanno però poi mi ritrovo tantissime domande anche personali nei commenti io non capisco quindi se siete interessati alla me oltre l'SMR seguitemi su instagram mi trovate come chiara.smr e adesso soprattutto in estate vi terrò aggiornati e vi porterò con me nei miei viaggi io li metto come ipotetici perchè ci sono mille varianti cioè mille variabili scusate la mia paura più grande era il ma lo so preso e sembra stia passando anche un pochino la voce nasale quindi bella e però l'altra mia paura è non partire perchè adesso con tutti gli scioperi degli aerei casinina riporto io il terrore di non partire speriamo bene naga che aiuto quindi prendo il pannello tecnicamente però io odio questa incertezza non la sopporto ci rimarrei troppo male se saltassi un viaggio proprio di un male assurdo dovremmo dovremmo partire per il Vietnam il 13 e praticamente facciamo scala Bangkok un giorno Bangkok completo e la mattina dopo partiamo per il nord di Vietnam facciamo solo 10 giorni in Vietnam e poi 10 11 insomma 12 non mi ricordo massimo 12 e e poi torneremo dal sud del Vietnam a Bangkok ancora una giornata a Bangkok poi prenderemo il volo grande da Bangkok a Milano dal 13 e torneremo al 28 tipo mattina prestissimo alle 7 di mattina e quindi arriveremo il 14 mattina a Bangkok e riparteremo il 27 pomeriggio a Bangkok da Bangkok e e se partiremo vi porterò vi porterò con me e io noto che davvero interessano molto i viaggi anche nelle storie quando sono andata in Giardania quando sono andata in Islanda mi è piaciuto tantissimo che condividere i miei viaggi e tutto ciò che penso e condividere quei posti anche il mio punto di vista ecco e e poi dopo il Kenya circa sei giorni dopo partirò invece con mio marito perchè prima sarò con due amiche partirò con mio marito sempre cioè sempre sta incognita di voli mi fa impazzire però per il Kenya e devo essere sincera fra i due sono molto più carica come viaggio proprio per il Kenya come vacanza forse per il Vienna perchè sono carica di essere con le mie amiche e chissà quando ci raccapiterà l'occasione di fare un viaggio insieme quindi sono contentissima però sicuramente sicuramente come possa visitare il Kenya è sempre stato proprio uno dei paesi che volevo visitare assolutamente assolutamente e anche il microfone qui e e quindi non vedo l'ora anche lì sono troppo oddio sono troppo felice di quest'estate in generale e il Kenya saremo via dal 4 al 18 cioè torneremo il 18 sera agosto e poi posso dirlo visto che è uscito poi pian piano le informazioni le condividerò su Instagram pian piano che verranno insomma i dettagli verranno condivisi su Instagram dall'evento questa cosa era uno dei miei desideri di sempre che una speaker al TED di Parletta Parletta è in Puglia quindi se siete di quelle zone a inizio settembre tenetevi liberi e venite ad ascoltare il mio discorso io ho sempre voluto dire un TED è sempre stato il mio sogno e portare questo argomento sul palco è sempre stato un sogno un sogno un sogno e devo ringraziare anche voi perché fondamentalmente voi siete parte integrante del mio percorso e vi giuro io lo so da tantissimo tempo c'è tantissimo lavoro dietro più di quanto immaginassi ci lavoriamo da febbraio per settembre per farvi capire e invece sono troppo emozionata troppo 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 e per tantissimi motivi magari ne parleremo bene un'altra volta o ne parleremo bene dopo che sarà successo vi dirò un po' le mie impressioni eccetera però niente volevo direvelo perché tanto proprio oggi sono uscite le storie quindi tanto cioè potevo dirvelo e mi farebbe anche tanto piacere proprio incontrarvi e parlarvi e che in generale ascoltate il mio discorso perché ci ho messo il cuore secondo me lo so sono bellissima vabbè ok basta e quindi sì a inizio settembre saranno proprio tre giorni lì e quindi cioè per me il prospetto di questa estate è incredibile 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 e ho sempre questa 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 sensazione che qualcosa sicuramente non andrà che è troppo bello per essere vero che tutte queste cose cioè che non andrà mai come programma sempre sempre ho avuto anche prima di tutta questa situazione sempre ma anche per la laurea già dai io il giorno della laurea ero ancora compinta che non lo so non mi sarei arredata perché magari mi mancava qualche documento non sto scherzando cioè io ero agitata non per la laurea in sé ma perché avevo porre che a un certo punto si accorgessero che non avevo un documento e che non era valido vi giuro sia pure gratis vabbè e e quindi niente cerco di essere fiduciosa però sono agitata e ero emozionata e e nulla però appunto cercherò di non lasciarvi senza video sono a posto fino cioè mi mancano due video da registrare per essere a posto fino a fine luglio e quindi sono tranquilla per ora e poi e poi ad agosto insomma registrerò pian piano anche quando torno magari mi piacerebbe molto anche registrare un video in Vietnam ma quando si è via non si sa mai non si sa mai cosa cosa si riesce a fare ecco quindi quindi una bella cosa le cose da dirvi non sto schiattando che altro che sto schiattando e niente questo sabato andrò al concerto al concerto di giovanotti quello a Marina di Ravenna il 9 so che eravano un 8 e un 9 sempre Marina di Ravenna non mi ricordo io ci sono il 9 e se mi incontrate salutatevi vi prego a me fa troppo piacere perché io lavoro sempre da sola e non ho mai un volto le persone che mi seguono quindi mi fa stra 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 piacere ogni volta anche se potrà sembrare che praticamente io sia più emozionata di voi cosa che non c'è così però mi fa super piacere davvero e e niente che dite facciamo un po' di amount sounds amount sounds e poi vi do una buonanotte ok li ho messo un po' più alti perché mi sono più comodi così qui non qui 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 e arrivare un po' di questo in grado ci manca anche un po' di brushing bello eh? non troppo forte? delicato? bello? bello bello sono anche troppo grata di poter apprendere tutte queste cose per il canale di avere la possibilità di aumentare sempre la qualità non mi rende troppo felice che questa cosa di stare fatta a un livello tale con il mio canale per cui posso investirci tanto sopra per il canale questi bellissimi vedete? bellissimi e... voilà io devo andare a cena e poi edito questo video stasera così riesco a mandarli un pezzettino tipo 10 minuti di video ai miei abbonati che sono iscritti al gruppo delle nuove appunto per abbonati e stasera se riesco oggi è mercoledì ieri per voi stasera se riesco a fare la live con questi microfoni quindi in generale inseguitemi anche sulla piattaforma viola perchè regalo sempre sorpresa e... e niente questi microfoni secondo me che anche gentle whispering però ce li ha anche moonlight cottage che si chiama gente quella ragazza che fa video storici che io amo 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 ma non mi ricordo mai il caso di nome del canale che è bravissima ha questi microfoni e poi ce li ha anche italiana e poi il tingles bravissima lei un po' ciasca anzi lei è suo fratello persona in tutto il canale anche lei ha questi microfoni e invece con un sacco la sua qualità bene grazie di essere arrivati fin qui grazie sempre di tutto il supporto con l'amore e i messaggi d'oggi mi arrivano ogni giorno per me è fondamentale e vi voglio bene e vi auguro anche una splendida estate non vi abbandono mai però ve l'auguro e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si aggiunta l'ora e a passare le luci e ancora la mia cura è temporaria a te buona 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 notte buona buona notte sognitor good night sweet dreams buonas noites buonas sueños buon nuit vete gioia buon nuit buon nuit tengo norsed buon nuit buon nuit perchè mi vengono bene? che ti spero